Buona carina, buona giornata, signori del segretario, buona persona, ci lasciamo sentire con la torre, Federica Penta! Ma quando ti abbiamo atteso? Eh, grazie, spero che ti ho attesa, io non vedevo l'ora da venire qua, ho mangiato un sacco di pranzo, è un po' di cucinale. Si va già bene? No, 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 no. Fingere di essere un provatore, e ora che io me ne vado via, sono parecato un sacco di pranzo. E scusa ma, non me ne importa, e sono qua, un'altra volta, ci finisco sempre senza farlo apposta, e stavo a prendermi la colpa, scusa ma...